Nuovo appuntamento con le previsioni del tempo dal Centro Meteo Italiano. Inizio del mese di dicembre l'insegna della generale stabilità su tutta la penisola grazie a una vasta figura anticiclonica dominante sullo scenario europeo centro-occidentale. Da segnalare tuttavia un po' di freddo fino al piano alla mattina in ottata con gelate diffuse anche nei prossimi giorni della settimana in corso a causa di venti del quadranti settentrionale in transito sul lato più orientale dell'anticiclone. Ma vediamo più nel dettaglio la previsione del tempo per la giornata di giovedì primo dicembre. Al mattino condizioni di tempo stabile con il sole prevalente su buona parte della penisola. Da segnalare la gelate diffuse al nord Italia e sui settori interni del centro. Qualche addensamento nuvoloso sulla Liguria e lungo la costa adriatica ma senza fenomeni associati. Bel tempo nel corso della giornata salvo dei residui addensamenti nuvolosi sulle Alpi orientali e tra Toscana e Liguria. Condizioni meteo stabili anche inserate durante la notte con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni italiane. Attenzione alla formazione di foschie o in Chilineghi sulla pianura padana e nelle valli del centro. Pertanto giornata di bel tempo ma anche un po' fredda al mattino e nottata con le temperature che seppur di lieve aumento nei valori minimi saranno negative su alcune città nel centro e nel nord Italia. Gradevoli tuttavia di giorno e previste in aumento più sensibili e specie sul Lazio, Sardegna e sud peninsulare. Anche per oggi è tutto con le previsioni del tempo a cura del Centro Aumento Italiano. Percevi gratis tutti i giorni le previsioni per la tua città. Scarica dagli store dedicati e dal nostro sito la nuova app in Erduita Meteo.